La convenzione fra il comune di Sanremo e la Rai per il festival della canzone italiana scade proprio quest'anno e anche se fra Palazzo Bellevue e Viale Mazzini i contatti non si sono mai interrotti, le incognite legate all'emergenza coronavirus non sono certamente poche. Il festival 2020, targato a Madeus, è arrivato sul filo di lana poco prima dell'inizio del blocco per l'emergenza e il fatto stesso che sia andato in scena ha creato non poche polemiche ed è finito persino al centro di una denuncia il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, avanzata dal consigliere comunale Sanre Mesi di Opposizione Alberto Pezzini. Per l'edizione 2021 le incognite sono molte a cominciare dal fatto che si possa svolgere effettivamente, magari con uno spostamento in avanti rispetto al mese di febbraio e poi in quali condizioni di sicurezza, problemi non da poco che inevitabilmente sono al centro della discussione per il rinnovo della convenzione fra Rai e Comune. La TV di Stato riconosce alla città di Sanremo 5 milioni di euro all'anno per il festival, assicurando anche la ripresa e messa in onda di altri eventi a cominciare dal corso fiorito. Ma con il coronavirus molte cose potrebbero cambiare, anche se sembra quasi certo che non cambierà il presentatore. Amadeus è infatti più che candidato alla guida della prossima edizione della Kermes Canora se, come e quando si farà.